Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi c'è il video sulle Blyde Bang, come si chiamano? Gli Stemmi Figures, oggi sto aiutando mia madre nel video. Esatto, mi aiuta il mio piccolo aiutante, assistente Nicolas. E quindi abbiamo comprate due di queste della Lego, le Minifigures, e una di queste invece che sono le Playmobil e figura, insomma, queste per le più minucce, per me, insomma. Comunque questa è tutta la collezione che abbiamo noi. E chi abbiamo Nicolas? Capitanuncino, Alieno, Alarim, Peter Pan, Capitanuncino, Alice, Ursula, Incrediboy, Topolino, Stitch, e poi abbiamo come doppioni, Alieno, Topolino, Alieno, Ursula e Topolino. Infatti cerchiamo anche per gli scambi chi è interessato, magari ci mettiamo d'accordo perché ormai è diventato difficilissimo andare a trovare gli altri. Comunque adesso apriamo subito la prima e speriamo di non aver trovato un altro doppione. vero, Nico? Sì! Come al solito, questa è la checklist con tutti i personaggi che si possono trovare. Chi vorresti trovare tu, Nicolas? Paperina! Eppure? Bazo e Minnie! Eh, speriamo, dai, vediamo un po'. Oh, mannaggia, un altro, come si chiama questo? Incrediboy. Incrediboy, un altro l'abbiamo trovato, vabbè. Questi peggiorano, eh? Eh, sì, hai visto, non si trovano più i nuovi. Ok, ormai vediamo in qualche scambio. Ah, ma c'era pure il mantello, Nicolas. E non manco se ne eravamo accorti noi. Andiamo bene. Ok, adesso apriamo la seconda. La prima ci è andata un po' male, eh? Vero? Ah, ah! Mannaggia! Vediamo se non togliamo le pioni. Chi è? Il genio della nata! Ah, finalmente, dai! Lo segno! Lo segno! Lo segno! Si deve andare così. Il... 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 Genio! Oh! Finalmente, dai! Ok, eccolo qua. Perfetto. E adesso apriamo quest'altra, che è la prima volta che le prendo. Ed è anche dello stesso valore. Che dici? Che dici? Che dici? Anche quest'anno una checklist. E questa è della serie 8, questi che ho trovato al Toy. Che è il Toy? Sì, è il Toy? Quindi questi sono tutti i personaggi che possiamo trovare. Vediamo un po'. A me piacerebbe trovare questa, è carina. Anche questa con i fiori. Vediamo che abbiamo trovato. Ah, la chitarrista. Ok, quindi eccola qui. È troppo, troppo carina. Dietro al codino si vede anche un tatuaggio qui sulla spalla. Con la chitarra. Sotto ha questa connellina con la cintina con le borchie. E tutti questi braccialettini. E un altro tatuaggio qui sul petto. Non trovo che sia troppo, troppo bella, veramente. Si tiene anche in piedi, perfetto. E sicuramente prenderò anche le altre perché mi piacciono davvero tutte. Sono tutte bellissime. E anche io voglio prendere gli altri di Disney Minifigure. Sì, infatti lanciamo anche un appello. Chiunque fa la collezione e magari vuole scambiare i doppioni con noi, siamo più che disponibili. Quelli sono i nostri doppioni. Vediamo se c'è delle paperina. Eh, speriamo, dai. Comunque questo era il nostro spacchettamento di oggi. E come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, saluta Nicola. Ciao. Ciao.